Una squadra che ha iniziato anche non al meglio questo inizio di campionato, però adesso è in piena ripresa, ha inanellato una serie di risultati positivi anche contro squadre importanti. Vedi anche la vittoria col Taranto sul proprio campo. Un campo comunque difficile anche perché è ben allenato, è una squadra ben allenata e ben allestita. Ecco, qual è l'insidia di questa gara? Beh, la prima insidia è quella del terreno di gioco. È chiaro che per noi, abituati a giocare sul sintetico, bello livellato, è sempre uguale, andare su un campo erboso, però mi dicono, come era anche l'anno scorso, alquanto irregolare per noi è un'altra messa alla prova. Però ci siamo anche abituati comunque mentalmente ad affrontare questa partita. Io preferisco sempre parlare di squadra. La squadra la si vede in campo e poi loro sono bravi, la si vede in campo perché loro in campo si ritrovano, parlano lo stesso linguaggio e mostrano sempre di più di poter fare sempre meglio. E poi loro sono bravi anche come gruppo perché fuori dal campo, nello spogliatoio e fuori dal campo, le varie individualità riescono a stare insieme molto molto bene, a relazionarsi e anche a parlare di quelle che sono le nostre convinzioni e soprattutto il nostro obiettivo da raggiungere.